quanti fatti dolorosi leggiamo nella cronaca di ogni giorno anche perché si scrivono più i fatti dolorosi che i fatti piacevoli era quello che era scritto proprio anche nei giornali della cronaca di gerusalemme due fatti dolorosi una rivolta dei giudei dominata e domata nel sangue e la caduta di una torre su delle persone che poverini rimasero morti e feriti che cosa ci vuole insegnare il signore con questo ovviamente primo problema che la genesi fuori dice e dio dov'era quando è successo tutto questo no dio vuol dirci un'altra cosa attenti come improvvisamente è successo tutto questo anche voi sbrigatevi a convertirvi perché non si sa che cosa può succedere sbrigatevi a convertirvi e qual è l'espressione più alta della della nostra conversione se non la dimensione sacramentale della confessione questo sacramento inventato da dio per poterci concedere anche plasticamente la sua misericordia non dobbiamo confonderlo con tante forme che hanno sfruttato questo nome certamente non con il confessionale del grande fratello ecco questo sia chiaro è tutta un'altra cosa in cui non mette la confessione non è mettere in pubblico le proprie cose le cose più private come in quel caso là e non è neppure la terapia dello psicoterapeuta che a un certo punto libera perché la gente parla e dice e si libera da dei complessi interiori no la confessione è l'offerta la presentazione a dio del nostro dolore di non essere piaciuti sempre a lui per ricevere la sua misericordia essere liberati essere liberati da tutto da tutto il male che è in noi dal peccato che è in noi questo è il grande della confessione e questo dobbiamo affrettarci a prepararla perché la parabola del vangelo di oggi finisce con l'episodio del fico il fico in cui che manifesta la pazienza di dio che per anni è per anni ha lasciato vivere questo fico che ha fatto soltanto foglie ma che ora a un certo punto ecco appare gesù questo è l'unico micidio che il signore commette seccare il fico ecco ora basta sto fico si secca e i scepoli lo pregano ancora un anno concedigli ancora un anno se l'anno prossimo non farai fighi seccalo ecco siamo qui a dire al signore dacci il tempo giusto per preparare una bella confessione ancora bimba ti entra con noi per poter esprimere attraverso la nostra confessione quaresimale il segno della nostra volontaria vera e reale conversione buon lavoro buona quaresima